Buonasera a tutti e ben ritornati in una nuova puntata del TG di AC Milan Inside. Stasera partiamo subito dalla notizia più importante di calcio a mercato, ovvero il sì di Alvaro Morata al Milan. L'attaccante spagnolo, fresco di vittoria dell'Europeo, ha infatti deciso di abbandonare la sua attuale squadra, ovvero l'Atletico Madrid, in direzione Milano. Non c'è ancora una data precisa per le visite mediche, ma si effettueranno sicuramente prima della sua partenza per le vacanze. Situazione diversa invece per il mercato del terzino destro. Sembrava infatti già quasi definita la trattativa con il Tottenham per il giocatore Emerson Royal. Ma a causa delle alte richieste da parte della squadra, il Milan sembra già aver cambiato prospettiva su due altri giocatori della Premier League, ovvero Wan-Bissaka dallo United e Cabo-Ré del City. Cambiando tema, è stato pubblicato oggi il calendario della Serie C, dove si presenterà la nuova squadra Milan Futuro. La prima partita si giocherà contro il Virtus Entella il 25 agosto, mentre la stagione terminerà il 27 aprile dell'anno prossimo contro il Vis Pesaro. Mentre c'è stato oggi l'esordio e subito la vittoria per la squadra dell'Italia Under-19 all'Europeo. Gol decisivo di Zeroli ed esordio per Camarda. Anche per stasera è tutto, io vi invito come sempre se volete rimanere aggiornati a seguirci sui nostri social. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!